I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Trapani su richiesta della Procura della Repubblica. Sono scattati nei confronti di 20 persone di età compresa tra i 22 e i 56 anni per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scaturito dopo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Cassellamare del Golfo coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani da marzo a giugno 2020 in pieno lockdown. Ad avviare l'operazione sono state le dichiarazioni della moglie di un consumatore di droga. La donna allarmata per le frequentazioni del marito si era resa conto che lo stesso aveva iniziato a consumare cocaina con frequenza periodica indicando i nomi dei presunti pusher. Le successive indagini svolte anche con mezzi tecnici hanno consentito di rilevare che nel comune di Cassellamare del Golfo tre soggetti con l'aiuto di complici e parenti avrebbero organizzato un sistema di consegna di marijuana e cocaina sostanze che sarebbero state acquistate rispettivamente a Partinico nel quartiere Zen di Palermo. Gli scambi dello stupefacente sarebbero avvenuti vicino le abitazioni dei presunti spacciatori presso gli unici esercizi commerciali aperti nel periodo delle più stringenti misure di contenimento della pandemia, ad esempio farmacie, nonché nel corso di festini organizzati in abitazioni private. Le indagini per uno degli indagati avrebbero permesso l'individuazione anche del reato di estorsione commesso in danno di un cittadino castellammarese. Si tratta di uno dei presunti pusher e si sarebbe fatto consegnare la somma di 500 euro da un suo conoscente con la minaccia di divulgare un video dal contenuto sessuale che lo ritraeva. Nel corso delle indagini otto persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani quali assuntori di stupefacenti nonché sono stati sequestrati 1.400 euro in contanti, 80 grammi di cocaina e 28 di marijuana. In otto, tra cui i figli di un noto esponente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, in atto detenuto per 416 bis, sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 7 gli arresti domiciliari e 5 obbligo di dimora nel comune di Castellammare del Golfo.